Siamo qui con Donato Savatteri, Head of Southern Europe di TiroPrice, al quale vogliamo chiedere un pochino quale sarà lo scenario di questo 2020. Noi rimaniamo positivi per questo 2020, nonostante il 2019 estremamente positivo. Prevediamo una continuazione di questo ciclo economico, non vediamo grossi shock all'orizzonte, non c'è pericolo di inflazione, le banche centrali stanno rimanendo accomodanti, anzi adesso sono diventate tutte quante accomodanti. Quindi diciamo che è uno scenario assolutamente di supporto per le asset class rischiose, quali l'azionario per esempio. Per quanto riguarda poi altre problematiche, vi saranno comunque tensioni geopolitiche, come vediamo, ci sarà un aumento della volatilità perché stiamo in un contesto di crescita comunque bassa, moderata, quindi con più dispersione dei rendimenti e quindi una necessità di avere una gestione più attiva che in passato. Ecco, prendendo proprio spunto da quello che hai detto, quale sarà la strategia di Tiro Price per questo scenario? Noi per questo scenario abbiamo una strategia veramente eccellente, Tiro Price Global Focus Growth, che è una strategia che possiamo definire la world changer, quindi che cambia un pochino i temi, che investe sui temi che stanno cambiando il mondo, sulla disruption che si ha in tutti i settori, quello tecnologico, ma anche quello dei media, quello dei trasporti, quello dell'energia e via dicendo. Quindi grazie a questa volatilità e questa dispersione dei rendimenti, una strategia del genere permette di identificare i vincitori di domani e stare dal lato giusto del cambiamento. Quindi questa è una delle strategie sulle quali ci focalizzeremo nel 2020. Perfetto, grazie mille. Grazie mille a voi.